Abbiamo diviso l'agenda in due parti. Nella prima parte vi informiamo sui nostri sistemi Luxon, Luxart, Aizeram e sull'attrezzatura necessaria per lavorare con i nostri materiali. Poi facciamo una pausa di 5 minuti e dopo la pausa vi facciamo vedere i passi più importanti in pratica come applicare i nostri materiali. Poi come già detto abbiamo riservato un attimo a delle domande che sono ancora da chiarire e poi facciamo un breve riepilogo. Il tutto dovrebbe durare circa 60 minuti. Quando noi parliamo di valori affascinanti per noi vuol dire che dobbiamo creare delle superfici solidi che hanno una radiosità brillante e un tattile freddo. Dobbiamo con i nostri materiali avere un impatto di un colore molto forte, espressivo e una cosa molto importante, un colore stabile che non ingialisce. In più possiamo, dobbiamo avere la possibilità di creare dei design individuali, cioè lavoriamo con dei colori a effetto opaco, trasparente, perlato o luminescente. Quello dipende proprio del design, dell'effetto finale che si vuole ottenere con i gioielli. Lavoriamo o dobbiamo ottenere degli alimenti colorati di alta precisione e di conseguenza la finitura può essere liscia, opaca o strutturata, secondo il bisogno chiaramente. Le opzioni di design spettacolari perché abbiamo la possibilità di fare sia un ricoprimento all'esterno, un'incastrazione di pietra, incisioni a laser, anche qui secondo il design desiderato. Architettura combinata per noi è importante perché combiniamo proprio il colore, il metallo è la pietra Life. Vi faccio vedere a base di una foto Life di un bracciale che vedete adesso. Qui si vede proprio bene la combinazione di metallo, varia scelta di colore, poi praticamente abbiamo aggiunto la pietra, abbiamo incassato la pietra dentro e questa è l'architettura proprio dei tre materiali diversi. Life of, ecco qua, Premium Color Design, vi faccio una visione d'insieme dei nostri sistemi. Luxon è un monocomponente a base di un metacrilato che non ha dentro nessuna percentuale di ceramica. Si polimerizza con la luce blu a 450 nanometri e ha una microdurezza di 140 newton al millimetro quadro. Luxon è il materiale ideale quando ci devono ottenere dei risultati trasparenti perché non avendo ceramica dentro è possibile. Luxart invece è un composto di ceramica che ha dentro 35% di micropolvere di ceramica che si polimerizza sempre con la luce blu a 450 nanometri e avendo la ceramica dentro chiaramente la durezza è ancora più elevata. Arriviamo a 210 newton al millimetro quadro. Poi Iceram parliamo di un composto che ha dentro 60% di micropolvere di ceramica e qui per far indurire è importante di lavorare in un forno particolare a temperatura e pressione 120 gradi e 4 bar perché avendo 60% di ceramica dentro la luce non riesce più a penetrare e per quello per polimerizzare abbiamo bisogno di temperatura e pressione e sempre con questo alto percentuale di ceramica la durezza è ancora superiore. Arriviamo a 410 newton al millimetro quadro. Questi sono i tre sistemi con i quali noi lavoriamo. Quando parliamo di Luxon è un monocomponente che vi ho già detto, è dentro in questi vasetti, è già miscelato, è composto di 95% di matrice organica che dà la durezza e l'elasticità, poi chiaramente il pigmento del colore richiesto e poi c'è un iniziatore dentro che inizia proprio il processo di polimerizzazione con la luce. Quando si applica il materiale qui è importante di muovere il materiale all'interno perché c'è una legger sedimentazione del pigmento del colore, basta muovere un attimo prima di applicare. I vantaggi di Luxon sono, praticamente possiamo ottenere proprio dei design trasparenti perché vi ho detto non avendo ceramica, perché la ceramica trasparente non esiste ma qui non c'è la ceramica, allora possiamo proprio ottenere dei risultati trasparenti. Live per favore e vi faccio vedere a base di una foto, qui vedete per esempio, adesso si vede meglio sullo zoom, vedete in alto l'arancio è molto opaco perché qui abbiamo lavorato con più strati, allora il risultato è opaco. Andando più in giù per esempio il marrone, lì abbiamo lavorato con il Luxon trasparente, aggiunto solo quale goccia del marrone così per creare quell'effetto cattedrale più o meno. Poi in più qui vedete anche l'effetto della polvere scintillante che abbiamo aggiunto in uno dei settori aranci. Life off. Un altro vantaggio di Luxon che una volta indurito la superficie è molto resistente perché abbiamo una durezza elevata di 140 newton come vi ho detto già anche prima. Il materiale è monocomponente, vuol dire che non c'è nessun bisogno di miscelare qualcosa, è proprio pronto per essere applicato. Si polimerizza con la luce blu in un breve tempo, cioè non c'è bisogno di aspettare tanto. La superficie una volta indurita è lucidabile, cioè si lucida, si crea vari effetti, vari stati di lucidità secondo il bisogno. Poi abbiamo anche una cosa molto importante, un'alta stabilità ai raggi UV, nel senso che i colori rimangono stabili, non ingialiscono. Poi un altro passo importante è che una volta indurito si possono fare i vari trattamenti galvanici al metallo e non influenzano il risultato del colore Luxon. Per tutte le tre linee che abbiamo la biocombatibilità è un must, anche Luxon chiaramente è biocombatibile. I colori a disposizione sono 10 colori standard e un trasparente che sono sempre disponibili dal magazzino. In più abbiamo 5 colori diurni e 4 polveri scintillanti, cioè questi sono i colori disponibili sempre dallo stock. Quando voi volete fare un colore su misura secondo codice Bral o Pantone, possiamo su richiesta farvi anche il colore specifico. Una cosa da notare è che quando lavorate con Luxon dovete lavorare con diverse profondità, perché dovete tenere conto, se io faccio uno strato di trasparente e lo faccio indurire con la luce blu, il trasparente mi lascia passare la luce facilmente, allora posso fare anche uno strato alto e indurirlo in una volta. Invece per esempio se faccio un'applicazione del Luxon rosso, il pigmento rosso del colore rosso non lascia penetrare la luce così bene, allora vuol dire che lì dovete lavorare a strati, fate uno strato più sottile, indurite, rimettete sopra un altro strato e ripassate a polimerizzare un'altra volta, così fino che arrivate all'altezza richiesta. Questo è da notare con Luxon, secondo i colori bisogna lavorare a più strati per ottenere lo spessore finale richiesto. Con Luxon possiamo anche lavorare con una tecnica di stampa, come noi la chiamiamo, vuol dire che potete scegliere qualsiasi grafica, stamparla ad alta risoluzione su una pellicola tecnica, poi questa pellicola viene incollata sulla base di metallo e poi viene ricoperto con il Luxon trasparente e così praticamente creiamo un effetto 3D di profondità, proteggiamo con il Luxon trasparente la pellicola che è di sotto e poi creiamo una superficie completamente omogenea, vuol dire che la pellicola sotto non cambia colore, rimane stabile, c'è un forte legame tra pellicola e metallo con la protezione di Luxon di stampa sopra, live per favore. Qui vi facciamo vedere su una foto live, proprio a questa lunetta qui, dove abbiamo fatto lo stampo della grafica qua, scelta pink, varia variazione di pink e poi è stato ricoperto con il Luxon trasparente per creare questo effetto 3D. Life of. Ok, arriviamo a Luxart. Luxart è un composto di ceramica che contiene 35% di micropolvere di ceramica. Se guardate la foto, vedete che sotto c'è scritto particle size 0,7, cioè la polvere di ceramica che è mescolato dentro è proprio piccolissimo, molto molto fine e questa è una foto presa sotto il microscopio. Allora, 35% di ceramica che dà la durezza e la traslucidità del materiale, poi lavoriamo con 55% di matrice organica che influenza l'elasticità, poi il pigmento del colore chiesto chiaramente, le nanoparticelle che influenzano la durezza e la reologia del Luxart e poi abbiamo anche qui un iniziatore che a un certo momento inizia il processo di polimerizzazione. Poi alla fine abbiamo un trattamento Shilan che serve a riunire tutti i vari componenti di questo nuovo materiale e farne uno nuovo. È questa la composizione di Luxart. E Luxart, come vedete qua la foto, è contenuto dentro nella cartuccia. Luxon era il vasetto, invece Luxart è dentro già nella cartuccia e protetto. I vantaggi di Luxart è sempre un materiale monocomponente in cartuccia, non c'è bisogno di mescolare, il tempo di essere utilizzato è illimitato perché è protetto dentro nella cartuccia. Abbiamo delle superfici molto resistenti a 210 Newton al millimetro quadro, proprio una durezza molto elevata. Abbiamo un'eccellente stabilità del colore ai raggi UV. Live on. Se guardate i brazzali qua sulla foto live vedete che il colore è molto espressivo e rimane stabile anche ai raggi UV. Off. La polimerizzazione è efficace perché ci vuole pochissimo tempo con la lampada oppure anche con l'armadio di luce e possiamo anche lì aggiungere l'asotto per l'indurimento. Quello ve lo spiegherò fra un attimo. Abbiamo una volta che il materiale Luxart è indurito la possibilità di levigarlo, smeriliarlo, lucidarlo e fare anche incisione laser per combinare vari colori insieme, per creare disegni molto creativi. Abbiamo una elevata forza di adesione al metallo di 27 a 29 Newton al millimetro quadro. Questo ve lo spiego in modo un po' diverso per capire bene com'è forte il legame. Praticamente dovrei prendere un peso di 270-290 kg al centimetro quadro per tirar via il materiale dal metallo. Vuol dire che il legame è proprio molto molto forte perché con Newton al millimetro quadro è un po' difficile a capire. Almeno per me con i chili è più facile da immaginarsi. Poi anche qui la resistenza ai trattamenti galvanici. Una volta indurito l'oggetto Luxart si possono fare tutti i bagni galvanici per ottenere il risultato, l'effetto voluto del metallo. E anche qua chiaramente la biocompatibilità è un must. I colori Luxart che sono disponibili dal magazzino sono 18 colori standard che vedete qua. Anche con Luxart abbiamo la possibilità di fare dei colori su richiesta secondo codice Pantone, codice RAL o anche campioni che possiamo misurare il colore e farvi il vostro colore particolare. Anche con Luxart dovete tener conto che lavorate con più spessori come vi ho spiegato prima con Luxart nel senso che se utilizzate il bianco si indurisce a uno spessore più alto in una volta. Se per esempio utilizzate il rosso ci vuole uno strato più sottile indurirlo e poi rimettere sopra l'altro strato perché dipende proprio come il pigmento del colore stesso lascia penetrare la luce. Arriviamo a Aizzeram. Aizzeram è un composto di ceramica che ha dentro 60% di micropolvere di ceramica. Anche qui vedete la foto sotto il microscopio, la misura dei particoli della ceramica sono anche qua a 0,7 µ e questi 60% di ceramica influenzano direttamente la durezza e anche la traslugidità. È chiaro che la ceramica trasparente non esiste e vuol dire che con Aizzeram non avremo mai dei risultati trasparenti completamente perché proprio non è possibile tecnicamente. Poi abbiamo dentro 30% di matrice organica che dà l'elasticità, il pigmento del colore specifico, sempre le nanoparticelle che influenzano la durezza e la reologia, poi l'iniziatore qui che praticamente dà il comando che da una certa temperatura in su il materiale comincia a polimerizzare perché vi ricordo Aizzeram con 60% di ceramica ci vuole la temperatura e la pressione in un forno particolare per farlo indurire perché la luce non penetra più. E poi come finale anche qua il trattamento Silan per riunire i vari componenti del materiale Aizzeram e farne questa materia nuova. Questo è Aizzeram. I vantaggi di Aizzeram sono che è un materiale sempre monocomponente contenuto nella cartuccia. Le superfici sono molto resistenti, ancora più resistenti di quello che è Luxon e Luxart perché con l'alto percentuale di ceramica arriviamo a una durezza di 410 N al millimetro quadro. Abbiamo anche qua una resistenza ai trattamenti chimici, vuol dire che possiamo fare trattamenti galvanici, altri trattamenti chimici e resistenti alla temperatura fino a 200 gradi. Abbiamo anche la possibilità di creare dei design luminescenti perché possiamo aggiungere al materiale Aizzeram dei pigmenti luminescenti. Vi farò vedere in un prossimo slide cosa significa e che effetti si possono ottenere. Poi abbiamo una stabilità eccellente del colore anche ai raggi UV, è importantissimo perché lavorando ad alta gamma un bianco deve rimanere bianco, non è accettabile che ingialisce dopo un po' di tempo. Poi anche qui la forza d'adesione che vi ho spiegato prima con i chili è molto forte perché abbiamo un legame chimico molto molto forte. Poi abbiamo la possibilità una volta indurito di fare applicazioni in un secondo passo perché quando Aizzeram è indurito è molto molto duro, vuol dire che io posso tagliarlo, posso forarlo, posso lavorarlo con gli utensili diametati sui centri di lavoro, posso fare incisioni, posso fare trattamenti galvanici. E chiaramente anche qua è biocompattibile. live per favore. Qui vedendo la foto vi spiego un attimo, praticamente questo anello qua, prima abbiamo riempito Aizzeram in bianco, abbiamo passato nel forno a 120 gradi, 4 bar di pressione durante un'ora, abbiamo indurito il bianco, poi abbiamo tirato via il materiale indurito in eccesso, abbiamo levigato, abbiamo fatto un' incisione laser dentro e abbiamo riempito il disegno laser con il Aizzeram turchese in più qua luminescente che fa l'effetto giorno e notte. Poi siamo ripassati nel forno, indurito Aizzeram turchese, 120 gradi, 4 bar, 60 minuti e poi abbiamo levigato e lucidato, finito l'anello. Questo praticamente vi fa vedere, è un esempio che vi spiega che una volta Aizzeram indurito potete lavorare anche in una seconda fase incisione e come vi ho detto prima anche foratura, tagliare, dipende dell'oggetto che si vuole realizzare. I colori Aizzeram abbiamo il magazzino standard di 18 colori opachi, 9 colori effetto perlato dove abbiamo aggiunto dei pigmenti madre perla, poi 4 colori luminex, luminex sono i colori che hanno in più i pigmenti luminescenti dentro che escono fuori di notte e poi anche qua chiaramente su richiesta possiamo realizzare Aizzeram secondo il codice RAL, il pantone TOT. Poi in Aizzeram distinguiamo anche due viscosità tra medium viscosity e high viscosity e vi spiego il perché, perché per esempio se volete riempire un anello e il materiale è importante che non sia troppo liquido che non vi fa le gocce quando riempite l'anello intorno. Invece quando dovete riempire una forma piana con degli angoli molto stretti, lì è importante che il materiale sia più fluido che penetra bene in ogni angolo. Allora secondo quello che volete fare scegliete o decidete utilizzare MV o HV più fluido o meno fluido. Arriviamo alla lavorazione. Aizzeram e Luxart è contenuto dentro in delle cartucce che sono pronte per l'uso praticamente, non c'è nessun bisogno di miscelare i vari componenti del materiale, l'applicazione è molto precisa perché si lavora col sistema di dosaggio, con la canola davanti, lo spessore secondo il bisogno dell'oggetto che dovete riempire, non c'è nessuna contaminazione del materiale perché è proprio protetto dentro nella cartuccia e poi la resa del materiale è ottima perché si riesce a uscire tutto dalla cartuccia, non c'è nessuna polimerizzazione indesiderata perché il materiale è proprio protetto e rimane dentro senza problemi anche una volta che avete cominciato a utilizzare la cartuccia, se la chiudete bene per più di parecchi anni potete utilizzare, riutilizzare il materiale. E poi anche ultimo punto non c'è una sedimentazione dei pigmenti perché è già tutto mescolato dentro nella cartuccia. La lavorazione è efficace, qui un breve riassunto dei passi più importanti, il primo passo praticamente è la sabbiatura, poi c'è la pulizia per avere una superficie completamente pulita, poi creiamo il legame e poi abbiamo l'applicazione proprio sia di Luxat, Luxon o Eitzram e poi andiamo a indurire sia con la luce oppure a temperatura e pressione. E poi l'ultimo passo è la finitura, cioè si levica, si rettifica e si lucida. Riguardando la lavorazione c'è anche un altro metodo di quello che ho appena spiegato, vuol dire che noi possiamo prendere una barra di Eitzram già indurita, per esempio l'iPhone, per favore, se guardate la foto qui vedete delle barre e questo è il materiale Eitzram normale ma già indurito e da quella barra lì si può andare sia sul tornio o sul centro di lavoro e fresarne fuori la forma definitiva voluta, come vedete qua sullo slide vedete le foto live off, come vedete le foto dell'anello praticamente o vedete la foto della carcassa di un orologio, lì siamo partiti di un pezzo indurito nella forma più vicina della carcassa e sul centro di lavoro è stato fresato fuori la forma finita della carcassa dell'orologio. Lavorando così su un centro di lavoro abbiamo una precisione molto alta, arriviamo a 0,02 mm e abbiamo anche la possibilità di fare dentro dei spigoli vivi, filettature perché Eitzram indurito è molto molto duro e si lascia lavorare con gli utensili diametati. design options, qui praticamente sarebbe il trattamento di seconda fase, vuol dire che possiamo fare trattamenti a laser e a laser vuol dire che possiamo avere sia creare strutture come le vedete su questi tre anelli qua, abbiamo fatto delle strutture dentro per creare come un effetto di architettura 3D e possiamo lavorare con dei design multicolore life all, qui vedete una lunetta realizzata in tre colori praticamente, allora abbiamo prima fatto la parte nera della lunetta, poi abbiamo aggiunto o raggiunto la parte in rosso, fatto un'incisione laser dentro per gli indici e poi riempito tutti gli indici tagliati dentro incisi con laser con Eitzram bianco luminescente per avere l'effetto luminescente di notte, cioè qui vedete proprio la possibilità di design multicolore life off e noi per fare i lavori di laser consigliamo un laser CO2, però è anche possibile per esempio lavorare con un laser a fibra volendo. Un'altra possibilità che vogliamo informarvi è l'integrazione di pietre, nel senso che il nostro materiale Eitzram o Luxat ha una certa elasticità che permette di impostare la pietra direttamente dentro nel materiale, è un fissaggio puramente meccanico senza dover incollare le pietre, life on, e se guardiamo la foto dell'anello da vicino vedete che le pietre sono proprio integrate completamente, qui facciamo un foro di un diametro leggermente più piccolo del diametro della pietra, poi viene spinta dentro e il nostro materiale si chiude proprio intorno e lo integra completamente e non c'è nessuna crepa tra il materiale Eitzram e la pietra, cioè questa è un'altra creatività che offre il materiale Eitzram e Luxat. Poi vi ho parlato un attimo prima dei pigmenti luminescenti, qui vedete proprio quell'anello che abbiamo visto live prima, il bianco e il turchese, che fa l'effetto giorno e notte, cioè l'incisione a laser che abbiamo riempito con il turchese, poi vi dà quell'effetto luminescente di notte, e anche qua abbiamo nuove opzioni di design giorno e notte che si possono creare, abbiamo diversi colori luminescenti che sono disponibili, poi c'è da ricordare o da tenere nota che mescolando i pigmenti luminescenti dentro in Eitzram, sono più protetti verso il graffio perché i pigmenti luminescenti senza protezione sono molto sensibili ai graffi, invece qui messi dentro nell'Eitzram praticamente è una protezione in più e aumenta anche la luminescenza. La luminescenza è visibile non solo in altezza ma anche sui lati, c'è un effetto proprio 3D, e poi anche qui i pigmenti luminescenti sono protetti dall'umidità, e lì in basso vedete la lunetta che vi ho fatto vedere prima live, quella nero-rossa che vi ho spiegato, quindi vedete proprio l'effetto giorno e notte. La stabilità del colore è una cosa molto importante, e qui abbiamo un esempio che parla da sé, praticamente questo orologio qua è stato realizzato dal gruppo Swatch ormai più di 10 anni fa, e vedete che la lunetta è stata realizzata in Eitzram, e invece le maglie del bracciale avevano deciso di farlo con un eposidico, e vedete la differenza del colore, all'inizio anche le maglie erano bianche, e vedete l'effetto che hanno avuto dopo tot tempo, sono ingialite, invece la lunetta Eitzram bianca è rimasta completamente bianca. Live on per favore. Qui lo vedete sulla foto live, che è proprio l'effetto come cambia il colore, e con Eitzram, Luxon, lavorando nell'alta gamma dei gioielli, i colori devono proprio rimanere stabili. Arriviamo all'attrezzatura necessaria per lavorare con i nostri materiali, che vi spiego un attimo. Qui vediamo il Ceralux, che è un armadio di luce, che può servire a far indurire Luxon e Luxart, oppure anche il Bond, per far indurire il Bond, che vi spiegherò poi in pratica. Il Ceralux è ideale quando si lavora in volume, e poi in più anche, per esempio, quando non esiste la possibilità di ritoccare una volta indurito il materiale, non ho la possibilità, per via del disegno, di farlo levigare, farlo lucidare. Allora, se nel Ceralux aggiungo l'asotto, il materiale o il pezzo mi esce fuori già lucidato, e questa è un'opzione in più con il Ceralux. La Twin Lux è la lampada a mano, che utilizzo per far indurire il Bond, Luxon e Luxart. Il Cera Power è il forno che utilizzo per indurire Eizeram, vi ho spiegato prima, 120 gradi, 4 bar di pressione durante un'ora. Poi abbiamo la Heating Plate 2.0, che viene utilizzato con Luxon, perché Luxon, per esempio, quando voglio mescolare due colori insieme per ottenere un altro colore, è ideale farlo su una piastra riscaldata, perché evito di avere, per esempio, delle bollettine d'aria. Il Preheater è stato sviluppato per Luxart e Eizeram, perché nel blocco alluminio sopra, praticamente, posso infilare le cartucce e regolare la temperatura. E quando posso regolare la temperatura, posso influenzare il flusso del materiale, cioè farlo più fluido o meno fluido, secondo come voglio applicarlo. Come vi ho detto prima, un anello deve essere più cremoso per non fare le gocce, invece quando ho una cosa piana, deve avere un flusso più ampio. Poi abbiamo il sistema di dosaggio, perché chiaramente Luxart e Eizeram, lavorando con le cartucce, lavoro con il sistema di dosaggio per avere un'applicazione efficace. La tecnologia pulita, molto importante, vuol dire che tutti i nostri prodotti sono biocombattibili e rispettano o sono conformi alla norma REACH. Questo, con tutte le nostre linee che abbiamo, è un assolutamente must per noi. Eccoci qua che siamo arrivati alla pausa, facciamo 5 minuti di pausa e dopo andiamo avanti con passo per passo in pratica. A dopo! Eccomi di ritorno. Volevamo ancora informarvi, se avete delle domande potete scriverle nel live chat e la Mariana vi risponderà con piacere. Arriviamo adesso nel secondo lato del nostro webinar, dove vi facciamo vedere proprio passo per passo l'applicazione, i passi più importanti come si lavora con i nostri materiali. La sabbiatura. La sabbiatura praticamente è una cosa molto importante perché sabbiando la superficie del metallo otteniamo una superficie ruvida e questo fa il grip meccanico, il legame meccanico tra metallo e i nostri materiali. Per sabbiare utilizziamo la sabbia corindone 110 mu e secondo la sabbiatura che voi avete lavorate con una pressione tra 3 e 6 bar. Dopo ogni... Io vi... Adesso passo per passo vi do la spiegazione dei passi poi di ogni passo che vi ho spiegato vi facciamo vedere un piccolo videoclip. Allora il primo è quello della sabbiatura. Grazie a tutti. Abbiamo visto la sabbiatura. Dopo la sabbiatura bisogna fare la pulizia. Quella può essere fatta sia a vapore o a ultrasuoni. È importante che sulla superficie dove andiamo a applicare il materiale non ci sia nessuna contaminazione e nessun grasso. Poi viene l'applicazione del link. Prima con la sabbiatura abbiamo fatto il legame meccanico. Adesso applicando il link e il ball facciamo il legame chimico. Allora si applica il link il link si autopolimerizza automaticamente in un brevissimo tempo e creiamo il legame chimico. dopo aver applicato il link viene applicato il bond che rinforza ancora il primo legame chimico con il bond lo rinforziamo ancora e il bond si polimerizza con la luce blu anche qua in brevissimo tempo o se lavoriamo in volume con l'armadio Ceralux che vi ho fatto vedere prima. a ok abbiamo visto il bond adesso arriviamo all'applicazione e polimerizzazione vi ricordo che luxon e luxat si polimerizzano con la luce qua adesso il prossimo videoclip vi facciamo vedere l'applicazione come esempio luxon luxon è un materiale monocomponente che è dentro in questi vasetti già tutto mescolato l'unica cosa dovete tener conto che c'è una sedimentazione del pigmento del colore stesso quando non viene utilizzato per un po di tempo allora prima di applicarlo di applicare luxon dovete muovere il materiale all'interno del vasetto e dopo potete applicarlo e la polimerizzazione si fa con la luce blu sia per luxon e luxart a Grazie a tutti. 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 E come ultimo passo arriviamo alla lucidatura finale, lì secondo quel risultato finale che voi volete ottenere lucidato a specchio opaco, lì praticamente è con la lucidatura finale che voi date questo tocco finale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, abbiamo visto i passi più importanti come applicare i nostri materiali. Adesso se ci sono ancora delle domande, posso rispondere anche io direttamente. Ho visto che una domanda era lo spessore minimo di applicazione e la Mariana vi ha risposto che sono 0,6 mm. noi consigliamo se è possibile di lavorare con lo spessore minimo tra 0,5 e 0,6 mm. è chiaro e sappiamo che ci sono degli oggetti dove i nostri clienti lavorano anche con meno e funziona. Lì dipende sempre un po' del design, proprio della forma del pezzo e volendo noi possiamo anche essere di supporto, darvi consigli se è fattibile o non. o se consigliamo, possiamo consigliare di aumentare lo spessore. Se ci sono altre domande sto guardando sul live chat. so che vi abbiamo dato parecchia informazione, comunque siamo disponibili anche dopo sia noi che Luigi D'Altrozzo. Potete iscriverci, rispondiamo volentieri alle domande che saltano fuori più tardi. andiamo allora al riepilogo. Vi abbiamo parlato di Luxon, vi ricordate il materiale senza ceramica dentro che permette di ottenere dei risultati trasparenti di conseguenza e che si indurisce con la luce blu. Vi abbiamo parlato di Lux Art, una via in mezzo che ha dentro 35% di ceramica che si indurisce sempre con la luce blu. E vi abbiamo parlato del Top Eitzeram con 60% di ceramica dentro che si indurisce nel forno particolare a 120 gradi e 4 bar di pressione. Vi facciamo vedere qualche impressione di oggetti realizzati. Qui vedete un bracciale ricoperto con Eitzeram, effetto perlato, qui si vede bene l'effetto perlato. C'è praticamente l'Eitzeram con i pigmenti madre perla che sono stati riuniti dentro. Qui vedete tre anelli fatti con Eitzeram, c'è l'anello il primo col marone lì, anche lì si vede bene l'effetto perlato perché lì abbiamo raggiunto madre perla in marone. L'anello bianco in mezzo, praticamente lì abbiamo avuto una struttura di metallo vuota sotto e dopo abbiamo riempito con il bianco intorno. Poi l'ultimo anello, quello nero, è il classico, una tasca, una profondità riempita con il nero, Eitzeram in nero. Qui un'altra variante di design dove praticamente abbiamo l'anello in verde, l'anello in oro giallo ricoperto con Eitzeram in verde e con la pietra sopra. Anche qui creiamo degli effetti molto particolari. Grazie a tutti!